Non si sono concluse le indagini sul caso della morte di Francesco Pio e Maimone, colpito a morte da un proiettile mentre si trovava fuori uno chalet a Mergellina in una normalissima domenica sera. Le ultimissime immagini acquisite dagli agenti della squadra mobile di Napoli riprenderebbero il presunto autore dei fatti, Francesco Piovalda, al momento in carcere accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso, mentre scappa tenendosi una mano sul fianco, lì dove presumibilmente nasconderebbe una pistola. Poi il gesto di mano, l'apparente consegna dell'arma alla persona che è con lui a bordo dell'auto con la quale poi fuggirà. Nell'informativa che la polizia di Stato ha depositato in occasione dell'udienza davanti ai giudici del Reesame che hanno confermato il carcere per Valda, c'è anche un video acquisito dalla squadra mobile di Napoli e ritenuto particolarmente interessante. Immagini che insieme con altre testimonianze che confermerebbero la volontà di Valda di sparare sono frutto di approfondimenti investigativi sull'omicidio di Maimone. Ad oggi, come è noto, della pistola non c'è ancora traccia, come anche delle scarpe, presunto motivo scatenante della lite tra i gruppi rivali del quartiere di Barra e del rione Treiano di Fuorigrotta. Le indagini della squadra mobile hanno anche restituito un altro spaccato inquietante, quello dei botte risposta sui social tra i due gruppi rivali di giovani e giovanissimi, spesso farciti di minacce e di morte, e la mappa delle frequentazioni durante la movida del weekend quando questi ragazzi, legati in qualche modo ai clan dei diversi quartieri della città, si spostano nei loro chalet preferiti di Mergellina per vedersi e consumare qualcosa, preventivamente armati, per timore che nel chiosco vicino si possano riunire i loro rivali.